Ma avanti a un anno, anzi un anno e mezzo che va avanti! Ho capito, però l'altro all'amica è un fatto importante! Importante lo so che è importante, è lui che viene in quei termini legici. Sto parlando all'amico o al giudice, all'avvocato? Stai parlando all'amico. All'amico, allora scusi, se tu stavi al posto mio, faresti lo stesso. Io voglio sapere il motivo per cui tu ti vuoi separare da tua moglie. Mi tratta come un cane. Ah, nel senso che ti maltratta? No, vuole che devo essere fedele. Allora, andiamo al canile. Al tribunale.